Allora, ciao a tutti, in questo momento quanti siamo? 15, 20? Fammi vedere, 24 partecipanti. Siamo a El Salvador, come probabilmente sapete, siamo in Zonte, che è da dove è partito tutto. Sì, Bitcoin Beach. E abbiamo pensato di fare questa diretta video, anche se come vedete non sappiamo ancora come farla bene. Peccato perché avrei potuto montarlo un po' su YouTube, facevo vedere qualche immagine di Honda con Morani. Si può ancora, monti l'audio sotto una serie di immagini. Sì, lo facciamo, ora vado a prendere la telecamerina, la metto qui, intanto poi è molto tutto dopo. Ah sì, va bene, poi monti in post-produzione. Sì, sì, metteremo in post-produzione, vedrete anche la registrazione di cui parliamo probabilmente. Comunque volevamo raccontare un po' come funziona qui a El Salvador, perché uno viene qui e dice sì, vabbè, accettate Bitcoin, non accettate Bitcoin, accettate dollari, carta di credito, Visa, quello che serve. Devo dire che le notizie non sono buone, già anticipo. Comunque vediamo un po' come funziona. Io sono arrivato ieri notte, quindi non ho avuto interazione con nessuno che non fosse il tassista dell'albergo, che non ho dovuto pagare, purtroppo, quindi non ho potuto verificare. Invece Gabriele e Giacomo sono qui da un paio di giorni e quindi magari ne sanno più di me. Poi andremo a questa conferenza dove Giacomo e Speaker, in realtà sono due conferenze che hanno un piccolo overlap durante la settimana, e pensavamo con Gabriele di fare un pochino la telecronica della conferenza, vedere come va la conferenza e cose semplici. Pensavamo di... Ho creato anche meglio di questo. Dì, esatto. Perché è meglio di 5-6 minuti. Giacomo avrà molto da fare, Giacomo vedrà tutti, Giacomo fra lo Speaker, io e Gabriele invece fra le complicazioni in giro. Sì, prego a fare il mai dire gol. La BitGalappa, c'è una bellissima idea. Vediamo che cosa viene fuori. Comunque scriviamo poi sulla chat se facciamo, se che cosa facciamo. Quindi niente, si tratta di capire se e come funziona Bitcoin qui, perché utilizzano questo client governativo, che tipicamente non ci piace come idea. e... Ditemi, ieri siete stati... Ma tu che sei negativo, parte tu... Parti negativo, bravo, io su sito... Allora prendo il telegrammine. Io cerco di dire che ho un po' la visione ottimistica. Dunque, il cibo è una specie di... che è questo cool wallet inventato da Naib di base come concessione. doveva sostituire Strike, che è un po' ritirato, nel senso che ha voluto fare un passo indietro e ha lasciato, diciamo, a Salvador la costruzione di un suo wallet. Scusa, spiegando il passo indietro, Bukele avrebbe detto a Jack Mahler che Strike avrebbe preso in mano la Bitcoinizzazione della nazione e Jack Mahler ha detto, no, no, io sarò lì a aiutare, ma non voglio affatti statali e cose del genere fare. E quindi è subentrato invece il nostro caro amico Mike Belshi, che è il cialtrone di Biscoe, che aveva organizzato New York Agreement Segway to Ex e ha fatto lui il wallet. Scusa, per seguire pure. No, vabbè, è una specie di incrocio tra un wallet custodian in cui praticamente tutti i movimenti sono off-chain, però in database centralizzato, tipo Venmo, Paypal, se volete anche, che cosa, Revolut, quelle balle lì, e un wallet on-chain, quindi se volete pagare i 5 dollari ne pagate due di commissioni e sembra che ci sia anche la possibilità in qualche modo solo per i non-merchant di attivare anche la ricezione di pagamenti lightning. Sì, è confermato. Abbiamo visto ieri, c'è un tutorial, confermato, sostanzialmente quando la nostra prima impressione... Allora, partiamo un attimo dall'inizio. Appena arrivati, al di là delle varie cose, coronavirus, test, su cui poi vi diremo una cosa che chiederemo bene a Nopara come dettaglio. Nopara è arrivato e davanti a lui c'era una persona che non aveva PCR test e ha detto di essere qui per la conferenza Bitcoin e sarebbe stato lasciato passare senza PCR test perché ha detto questo. Oggi vedremo... Il tampone. Il tampone. Il tampone. Domani vedremo Nopara e le chiederemo se c'è questa persona e le faremo delle domande per capire se è vero. Noi abbiamo presentato il nostro test di stupro nasale, siamo passati e abbiamo pagato il primo tassista perché era troppo tardi per quello dell'albergo, quindi abbiamo dovuto pagarlo, gli abbiamo chiesto se accettava Bitcoin e lui ci ha detto, non è certo di no, ci ha guardato che sguardo vitrio come una specie di... è andato in bloc, è andato in crash e ci ha guardato che sguardo vitrio alla fine per uscire dalle imprese è andato del cash. Questa sista non capiva. Preso poi invece la navetta il giorno dopo, le abbiamo chiesto se accettava Bitcoin e ha detto sicuramente sì, però ci ha mostrato cibo questa applicazione governativa. Sì, con un QR code. QR code che una volta decodificata era un URL con l'ID dell'utente governativa. Sì, proviamo con un wallet Bitcoin a pagare questo QR code, con un wallet non c'è, non va, con wallet Bitcoin non va, perché scopriamo, con un lettore QR code generico, scopriamo che è il tuo codice fiscale salvadoregno praticamente. Quindi prima versione di pagamento è un database governativo completamente acceso. Bisogna selezionare il BTC ti mostra un codice 11, un normale indirittro cash. Mi sembra un... Forse un B2SG. Sì, una roba così. Dopo bisogna andare su una impostazione nascostissima che è una freccetta cibo sopra in alto e da lì puoi mettere il Lightning Network e finalmente si genera un invoice. Quindi è possibile, però è molto nascosto, fatto veramente da cani, non si capisce benissimo perché. La parte, entrambe le cose, sia, tutte e tre le cose, sia la cosa basata sul codice fiscale, sia la cosa on-chain, sia la cosa Lightning, sono tutte custodial. Quindi l'utente non ha mai in mano le chiave private. Poi, dopo questa prima esperienza con la carrettina, siamo andati a comprare delle SIM card per avere traffico dati locali, ha chiesto di pagare in Bitcoin, la donna ha chiesto di no, anche se c'è un cartello Bitcoin Accepted, mi ha chiesto motivazioni e ci ha detto che in generale le SIM card per motivo legale non si possa parlare neanche con carta, neanche con Venmo, neanche con Paypal, solo cash. Quindi le SIM card non si capisce bene perché. È un motivo legale questo qui, che vogliono il cash di base. Sì, però forse ci ha preso in giro. Comunque voleva cash, neanche carte di credito, neanche altro, solo cash fisico. Questo era ancora vicino a San Salvador, quindi cerchiamo la capitale. Abbiamo poi preso la macchina per arrivare, per aver trovato il Bitcoin per la macchina niente, non recettavano, il modeggio anche perché è un modeggio molto avventuroso. Tralasciamo un po' le avventure. Siamo arrivati alla fine a Bitcoin Beach, che è il Zonte, che è questo piccolo villaggio dove tutto quanto è nato. Qui la cosa è strana perché tutti i piccoli chioschetti di persone, la famigliola sulla spiaggia che vende cocchi e così. Queste cose molto piccole accettano Bitcoin. Hanno il cartello e accettano Bitcoin. Invece le cose un po' più strong, tipo nei locali dove fanno le feste, il ristorantino ieri sera, i posti che hanno dipendenti formali, se chiedi Bitcoin scuoto la testa e non capiscono cosa sia e non vogliono fare lo sforzo. Invece chi è self owner, diciamo così, le piccole famiglie accettano tutti quanti. Quindi la situazione è un po' strana. L'unico negozio un po' più strutturato del branch di ieri che accettava Bitcoin è stato bello perché lui mi ha detto che wallet così. Ci ha fatto vedere, aveva tutti i wallet possibili immaginabili e sceglieva quello che volevi. Quindi aveva Moon, aveva Fenix, aveva di tutto. Quindi comunque chiaramente diciamo siamo un passo sotto Rovereto, un passo sotto il resto del mondo forse. Comunque ragazzi fateci le domande che volete, non possiamo fare dei racconti meravigliosi perché a parte il discorso pratico di pagare in Bitcoin eccetera, qui ci sono qui, che non è esattamente il centro della manifestazione ovviamente però è dove tutto è nato, ci sono un po' di expat o comunque di gente che è qui da settembre quando è stata, diciamo quando è uscita la legge e sono qui molto appassionati e abbiamo fatto discorsi meravigliosi, avete visto le foto eccetera. E devo dire che il lato umano di ritrovarsi di nuovo a viaggiare, di incontrare dal vivo dei Bitcoin, da tutto il mondo è veramente una cosa impagabile. Sì, quello è stato bellissimo e vi dirò, io a differenza di Gabriele sono anche molto positivo sulla mancata accettazione, perché uno dei miei problemi anche morali nel valutare, nell'essere eccitato di questa situazione del Salvador era il fatto che comunque era un governo che obbligava un tizio ad accettare in pagamento una cosa che non voleva e questo non mi piaceva. Quello che vediamo è che l'enforcement della legge Bitcoin è zero, cioè se le persone dicono no, non so cosa sia e non è che si sentono terrorizzati dal fatto che arrivino i gendarmi a costringerli. Dicevamo con Luca, magari se ci capiterà di andare a una multinazionale americana romperemo le balle solo per avere voglia di dar fastidio a McDonald's, quindi se entriamo in uno Starbucks daremo fastidio, ma loro li accettano, quindi non ci sarà neanche da dar fastidio. Dovremmo cercare una grossa catena rompipalle che magari ci chiede di mettere la mascherina e li romperemo le palle a società Bitcoin se non vogliono. Ma i piccoli commercianti locali, quelli molto piccoli, li accettano tutti, quelli medi condipendenti no e non hanno paura della legge Bitcoin, non è un enforcement cattivo che tutti sono terrorizzati. C'è abbastanza libertà di fare quel cavolo che vogliono. Questa è una cosa molto positiva perché riporta una cosa che rischiava di essere top down, riposta, centralizzata a una cosa che rimane più organica, cioè nei punti vicini a questa Bitcoin Beach, che è questa comunità dove il fondatore ha i segni inglese e surf e informatica e bambini locali, quindi il punto che è partito dal basso con una spinta di comunità, una spinta comunque di evangelismo bello, cresce, mentre la spinta dall'alto è un po' un buco nell'acqua, come è giusto che sia. Come è giusto, è bello che sia. È bello che sia così. Non so, sai, c'è da dire che esistono due modi di fare libertà per gli stati, cioè la libertà del bazar e la libertà della cattedrale. Ora, non so se è presente il stato di come è nato poi l'open source. Ora, non so bene quanto sia positivo che un posto sia libero ma non abbia quella libertà della cattedrale, cioè la libertà organizzata in cui qualcuno ha un'idea di libertà forte, Jefferson o chissà chi. Questi posti in cui c'è libertà perché il governo è troppo lontano, perché non riesce ad arrivare dovunque, poi dopo un po' potrebbero evolvere e andare ad essere meno liberi. Quindi forse mi sentirei più sicuro di avere, che ne so, Bitcoin in Texas e forse per il contatto in Texas che non è inelzato. Che ne pensate? Eh sì, diciamo che quando hai il campione, quando hai un single point of failure, la situazione è fragile. È molto efficiente a volte, ma è fragile. E qui il single point of failure è Neibnay Bukele che adesso è super Bitcoin e poi il suo successore magari no e poi lui che cambia idea con un buon prestito dell'FMI magari no. Quindi bisogna vedere, bisogna sperare una moral solution. Esatto, esatto. O viene rapito e sostituito quei cloni creati nel solterraneo della... Quindi bisogna capire quanto è fragile questa cosa centrale. Però qui secondo me abbiamo entrambe le cose. Abbiamo il Bazar che sta arrivando dal basso, che secondo me è molto bello, molto solido, è bello da vedere. E invece la cattedrale che sta facendo un po' di cilecca venendo dall'alto. Quindi tutto sommato vediamo un po' come va. Ragazzi, chi vuole fare delle domande? C'è una domanda. Allora ci chiedono se la connessione internet è buona, è economica e se si possono usare wallet di cellulare senza problemi. Allora sulla connessione internet ci state vedendo. Beh certo, questo è quello che... E questo è il wifi dell'hotel. Che è anche un hotel... Diciamo, almeno gli hotel di buon livello hanno connessione internet che come vedete non è problematica. Abbiamo preso io e Gabriele delle sim locali che vanno bene direi. Sì, sì. Non abbiamo problematica. Decenti, diciamo che non è che fai le grandi video... Decenti direi. Abbastanza sicuramente da pagare. Per chi li fa come sono i scontrini? Non ho visto come gli scontrini. No, aspetta, aspetta, prima dici si possono utilizzare wallet sul cellulare? Sì, sì, sì. La connessione è sufficiente. Io ho usato anche Fenix e Moon, no, Fenix via Tor e ci metto un attimino a attaccarsi a Tor, ma mi si è attaccato a Tor sia dalle reti wifi che dal 4G. Quindi wallet e bitcoin connessi a internet funzionano e connessi a Tor pure, anche se un po' lentini. Quindi molto bene. Anche sulla spiaggia nessun problema. No, allora aspetta, però io qui mi collego ad una cosa perché io sono sempre un po' alla... Come sapete sono fuori dall'Italia e sono sempre un po' a guardare se ho fatto la scelta giusta o se ce ne sono i migliori. So che tu sei stato a Dubai e so che a Dubai Tor non si può usare, è vero. Devo usare i bridge, nel senso che è informamente illegale. Un mio amico si è collegato all'ex bitcoin meccanico, si è collegato a Tor perché non sapeva ed è andato. Quindi il nodo tor non era bloccato, però poi le han segnalato che c'è una legge di Dubai che rende spistamente penale con le garzettore. Quindi si può fare con dei bridge. Quindi funziona ma non dovresti farlo perché con i rischi legali grossi. Qui, che io sappia, non c'era... No, no, perché non era per dire di qui, era soltanto perché... Anche le VPN sono illegali a Dubai. Anche le VPN. Anche le VPN. Poi la gente le usa perché è molto difficile detectarle, quindi non c'è grande enforcement. Spesso a Dubai sai l'alcol è legale, poi però se c'è uno miratino l'extra di non lo è, quindi è un po' un'applicazione molto discontinua della norma. È difficile, non è regolare con l'applicazione. Comunque di base qui i pagamenti lì un turista li fa soprattutto, diciamo, non c'è, però molti posti, soprattutto quelli piccoli, hanno Striker, quindi accettano pagamenti Lightning, oppure hanno Ibex, Ibex, come si chiama? Sì, c'è sta roba. Che mi sembra che sia Lightning quello o un chain, sembra non c'è. Era, no, anche Lightning. Anche Lightning. Sì, ci sono... Quindi noi abbiamo fatto, fai conto su sei pagamenti, abbiamo fatto due, mi ricordo bene Lightning, quattro on chain, c'è. Perché se ho capito bene, la loro app di default propone on chain... No, di default è un sistema governativo totalmente non bitcoin. Quando vai a cliccare su Bitcoin, on chain. E devi andare sul tasto veramente nascosto per fare Lightning. Ho visto lo screenshot di questo tasto minuscolo e... Che non si capisce, sembra quasi fatta apposta. Si sa che Mike Belchie non è un simpatizzante Lightning Network, però sembra veramente una cretinata di UX. Non si capisce se... Sì, questo tasto è veramente stranamente un discorso. Se avete anche delle domande su quelli sono i posti per fare... Che devono fare una cosa degli scontrini, che poi non ho mai visto i scontrini qui. No, in april... No, in april... Il bar, l'altra sera, il Lolas Permanente, se li hai messi... E cosa ti scrive sopra? No, ti scrive solo l'importo, poi vai dal capanello dell'amministrazione, c'è una ragazza, perfettamente lì, alle... Se ti scrivi troppa ragazza rispondi a domanda successiva di... Sì, è bene, c'è la domanda poi. No, no, vai avanti che poi ti leggo la domanda. Ha lì, c'è 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 lì. Sì, c'è lì, c'è lì, c'è lì. È un posto diverso, in un posto di mare, forse si vede il mare, forse si vedono le onde, se no alziamo, ah giusto per questo il nostro YouTube, vediamo cosa è. Ah, ma è giusto. Quella è la diretta, quella che vedete, quella... Non parliamo più. La diretta. Se si riesce a far vedere le onde, ci sono anche dei surfisti. E anche delle surfiste. Anche dei surfisti probabilmente. Quindi, ecco, se qui è un posto di ragazzini, come chiamarli, di giovani, di diversamente vecchi diciamo che lo che vuole sempre la sua parte però il capitale ci sono anche dei bei surfisti e delle belle surfiste ogni tanto straniere senza entrare nei scorsi etnoestetici e poi invece la vera domanda era situazione di sicurezza rispetto al dollar range of tech io direi buona però nel senso che noi siamo arrivati durante un allarme appena io e Gabriele siamo atterrati c'è stato un allarme perché la violenza delle gang ha subito un rialzo con pochi precedenti recrudescenza notevole 30 omicidi soltanto nei giorni in cui siamo atterrati tra gang e Bukele ha dispiegato l'esercito che il ragazzo che abita qui da settembre ci ha detto non aveva mai visto l'esercito nelle strade qui per esempio nel zonte quindi c'è stato un enorme dispiegamento di forze non è alcuni bitcoiner delle varie chat di organizzatori ritengono che sia non un caso che possa essere collegata alla conferenza tipo le Maras le gang dicono c'è gente ricca che fa queste conferenze noi non stiamo prendendo nessuna nessuna percentuale caro Naib apre il portafoglio Naib prima ha aperto i caricatori e poi ha aperto anche il portafoglio forse perché oggi l'emergenza sembrerebbe rientrata mentre la violenza sui turisti dal punto di vista di rapine ci dicono anche questi ragazzi che sono qui da mesi è praticamente sconosciuta qui probabilmente è una media centroamericana di qualche evenienza ma non è tipica cioè qui la violenza è gang che fanno delle retribuzioni violenta vicenda scontro col governo ma non dovrebbe esserci tipicamente una storia di rapimenti o estorsioni o rapine a turisti e né in senso fiat né in particolare in senso vittorio no 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 ma poi questi sono piccoli luoghi di villeggiature e a meno che non ci siano dei commandos diciamo come in tutto il mondo succede non sono proprio un bersaglio molto molto usato non è neanche particolarmente isolato perché è tutto il litorale che è abbastanza sviluppato dal punto di vista turistico quindi ci sentiamo abbastanza tranquilli ovviamente speriamo di non essere smentiti sì ancora presto per dirlo ma la situazione beh poi ripetiamo come dice Luca San Salvador sarà una cosa completamente diversa da rividere in impressioni forse diverse qui è un posto turistico tranquillo dove ogni tanto vede dei militari e dove ci consigliano di non girare la notte diciamo che chi come me come noi sono abbastanza abituatini a girare in Centro America le grandi città sono abbastanza pericolose e i centri turistici meno almeno questo è il mio giudizio poi anche le grandi città è una questione di metri e di minuti cioè dopo la mezzanotte in certe strade così passa a essere un po' prudente non troppo spanissimi come dire la Bologna Gabriele esperto educativo ci chiede chi si occupa dell'aspetto educazionale tema Bitcoin se abbiamo rilevato qualche associazione magari studentesca che si spende per sensibilizzare beh non è studentesca ma l'associazione è Bitcoin Beach Bitcoin Beach è questa associazione che è nata con scopo puramente educativo Bitcoin è il centro del brand che poi si stende sull'educazione finanziaria dal lato e quindi educare la gente locale a risparmio che è una cosa per loro molto aliena sono molto fiat in questo senso i locali non hanno l'idea di risparmio neanche di pochi centesimi e questa Bitcoin Beach fa educazione finanziaria e poi educazione informatica di alfabetizzazione informatica e tecnologica che è l'altra componente oltre a questo però in realtà fanno anche surf la lingua inglese fanno un sacco di altre cose quindi Bitcoin Beach è il centro educativo della situazione e peraltro credo che sia molto legata a Strike perché anche se qui Mallers non c'è si diciamo nella Hope House penso ci sia anche un ufficio di Strike si dobbiamo andarla visitarla poi andiamo a visitarla poi vi diremo un video domani potremmo fare anche un video per esempio è un ragazzo che lo dico ma sarebbe anche interessante conoscere questo Mike che domani parlerà che è il fondatore non il fondatore ma l'attuale direttore della Bitcoin Beach poi Mauro Pili chiede se abbiamo visto qualcuno oltre a noi cioè del posto pagare in Bitcoin no anche perché il posto pagare in generale non l'abbè vista noi avevamo visto i turisti pagare perché il posto era a Merchant non era quasi mai il turista quindi no noi poi frequentiamo la spiaggia non è che andiamo nel mercato gli orizzonti non so neanche dove siamo qui da un giorno e mezzo però abbiamo fatto abbastanza per vedere proprio la vita del paese abbiamo visto la vita dei locali dei turisti e la vita della spiaggia e purtroppo dovremo domani inizio la conferenza nella capitale e quindi purtroppo dobbiamo lasciare questo posto e oggi pomeriggio facciamo un giro a piedi che stanno vedendo a lunedì andiamo a spaventarci nelle onde a lunedì a lunedì facciamo lezioni di surf lezione per noi due per lui e per l'età anche il pronto soccorso di questi vediamo se accettano se il medico locale accetta il trapianto di costole pagato in bitcoin vediamo di scoprire cosa è successo cosa è successo a Popesco esatto oggi operazione mi stia a Popesco rip vediamo e ci chiedi invece va bene Marcello ancora in sicurezza ma direte abbiamo risposto Federico magari sentiti Federico registrazione abbiamo già descritto Civo fa abbastanza cagare confermiamo che fa abbastanza cagare si usano dei wallet locali che non abbiamo mai sentito tipo appunto Ibex tipo Civo si lo conoscevamo c'è un altro e 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 un altro Erwin deve uscire si verrà registrato quindi potrà sentire registrazione poi a McDonald usa McDonald usa McDonald ma forse questo si tratta avete provato gli ATM per Bitcoin che il Presidente dovrebbe aver messo in giro non ancora vedremo una nella ho pausa andremo a vederlo oggi anzi andiamo a prelevare perché quando non ci accettano a Bitcoin noi e io e Gabriele avevano dovute le musinare dollari da altri Bitcoin perché non avevamo dollari quindi dovremmo sicuramente prelevare un pochettino e lo faremo alla ho pausa e poi anche nella capitale e vedremo com'è la situazione al rapporto quando arrivi bisogna pagare una tassa di 12 dollari ma non ho capito per quali nazionalità gli italiani non devono pagare comunque c'è questa fila si arriva lì c'è un chioschetto guarda il passaporto e dice no tu non la devi pagare poi qualcuno invece la doveva pagare ma non so di quale paese il fatto sta che c'era un bel cartello però si accettano Bitcoin poi purtroppo c'era il cartello subito sopra che diceva non si possono utilizzare cellulari quindi ci chiede invece Marcello se visiteremo il sistema di mining col vulcano noi no una delegazione tedesca con il sviluppatore Jonathan Snick il giorno in cui siamo arrivati è andata a visitare la mining farm sul vulcano guidata avevano un gancio direttamente con Jeff l'organizzatore dei lightning hack days di Monaco Jeff poi di Fulmo aveva organizzato insieme agente governativa locale la visita della mining farm governativa noi ce la siamo persa e non riusciamo a riusciamo ad organizzare anche perché cerchè di entrare nella mining farm cioè una cosa che si poteva entrare con la gancio è saltato il video mi sa siamo fuori dal video ok non è uscito è stata Mir mi sa no è stato ci sono buttati fuori per la non è stato qualcuno dietro è stata colpa mia forse mi sentite in audio con i video con i video ecco forse mi sentite in audio con il tanto no perché cerco di recuperare ecco stacca 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 no ma le surface c'era una ma aveva i baffi era comunque una situazione ambigua le sim card non si possono accettare senza documenti nel senso che almeno in quel negozio ufficiale c'è anche passaporto io ho proposto la carica identità non li ha voto proprio passaporto ovviamente magari un altro negoziante con una però no ha dovuto chiamare un numero a cui ha dato gli estremi dei passaporti quindi comunque se ci fosse un documento falso che il negoziante decide di accettare dovrebbe il negoziante con il suo codice negoziante prendersi l'impegno di dare un codice falso a questo numero della compagnia quindi no direi purtroppo l'identità alla sim card connessa ma si può pagare si può ricaricare su B3FIL direttamente quindi facile noi avevamo preso stasso in casa solo internet ci serviva anche il telefono su B3FIL in 5 secondi abbiamo pagato l'item per mettere il telefono quindi buono 12 dollari andati per farlo anche in un rapporto è successo questa cosa un po' strana la persona che ti intervista per entrare quella a cui dai passaporto il poliziotto aveva un foglio con scritto partecipanti alla Bitcoin Conference e quando ho detto dice perché se qui ti guardo alla Bitcoin Conference ha preso il tuo nome qui quindi ha scritto il mio nome su questo foglio dei partecipanti alla Bitcoin Conference quindi o il più grande attacco 5 dollar range della storia in cui una nazione diventerà ricca non grazie al turismo ma grazie a una singola rapina collettiva però prima degli exit scam puoi fare una volta sola cioè se Bucchile facesse proprio a meno che non abbiano benificato un massacro di massa di tutti i Bitcoin però anche in quel caso il sistema è fragile nel senso che lo fai una volta sola ci sacrifichiamo noi la volta dopo i Bitcoin tutti quelli che andiamo da fare tocco la donna sto a canto e posso venire tutti quelli portaranno avanti la fianco comunque bellissimo vedere arrivare la gente a sorpresa io ho le 7 pronto per la mia lezione di mattina che poi è stata rimandata alle 8 è stata rimandata ovviamente non sarebbe mai potuto succedere che Gabriele perde due volte l'appuntamento mai però se l'hai dato via il 7 metodo ho detto ho una lezione al 7 metodo dove è il maestro e c'era lì un biondino che ha detto ma prova a passare alle 8 metodo non c'è mica nessuno allora sono passato alle 8 metodo e c'era un ragazzo ma io dove è questo maestro e stiamo andando un po' top direi però come sempre sempre molto come dice il fondatore è un grande serpista penso ma poi chi è questo che noi che ha fatto il bitcoin beach wallet che conoscete no è uno della prima delle due conferenze ah sì mi pare di un letto che risponde ma qui è quello che ha fatto il bitcoin beach wallet che è stato il primo wallet che serviva la consigliata che custodia ma anche lì è un applicatore del genere tra comunità locale dove sai dove andarla prendere non c'è un grosso tema di trustlessness comunque quindi se ha un wallet interamente custodia locale solo per la gente locale è un francese questo qui questo da noi e la cosa figa di questo bitcoin wallet è che ha anche tutto l'elenco dei merchant che accettano i bitcoin per cui una volta che tu l'hai installato puoi sapere guardi la mappa dove andare a spendere un po' la qui bitcoin di umberto direi che sentiamo se c'è qualcuno che vuole insultarci link dei wallet li portiamo dopo che deve cercare nella descrizione del video poi su youtube metterò un po' di link ma intanto me lo scrivo qualcosa link dei vari wallet scaricabile ma intanto io vabbè ognuno ha le proprie paurissime io non scarico nulla io non scarico nulla io mi segno una questione del gnoc che vi sottoglie qualcosa che dobbiamo andare qualcuno in una scoperta io mi parlo degli uomini invece e poi a posti posti dove stare c'è questa villa tiatita che è la più bella che abbiamo visto perché è al centro della spiaggia lunga proprio sulla bit per bici al centro e secondo noi è carina perché è un giardino eccetera ci stanno 10 persone per se 354 dollari al giorno per cui diviso 10 sono 35 dollari bisogna riservarla con sì c'è una cosa più intelligente da fare quando noi cerca un hotel qui è divertente si va a vedere a livello del posto come economia perché vai a trovare degli hotel in cui dicono uno 18 dollari a notte un altro 19 uno 27 uno 25 per riuscire a trovare un hotel che costa non so 70 80 dollari a notte devi scorrere 50 su xpidia ma su tutti gli altri motori sarà la stessa cosa e questo è interessante alessandro chiede come è il tempo il tempo è tropicale qui adesso è stagione secca formalmente ma in realtà è un po' o meno io lo sapete sono qui in realtà qui la sera fa fresco ieri sera faceva freddo faceva perché la sera fresco si esce si va in discoteca si fa una cosa un'altra invece ci sono questi posti veramente tropicali dove ho la sensazione che vita notturna è minore non ce la fai troppo caldo tutti di giorno tutti di notte soprattutto qui non ci sta male la stagione secca quindi maggio che poi dai pioggia si è perduta di palle come zanzare come altre cose zero da andare per ora quindi molto molto bene la vita notturna finisce verso le 9 9 e un quarto e che per il soggetto tecnico benissimo ieri avevano detto che c'era un evento che iniziava alle 9 in un posto che si è rivelato essere in mezzo alla giungla e senza alcun posto io e Giacomo siamo andati a cercarlo abbiamo trovato un tipo che si chiama Sensius che ci ha mandato da un'altra parte da Pablo è stata una situazione interessante però non abbiamo visto locali niente e per fortuna ci siamo trovati con questi 12 bitcoiners a parlare di sovereign individuals e monasteri bitcoin e cittadelle cose belle molto belle mi chiedo di chiarire sui prezzi degli hotel non semplicemente dicevo che è stato un po' un impatto perché cercavo un hotel qui e immaginavo come in diversi altri posti del mondo che ci fossero degli hotel che partivano a 50 dollari e fossero 10 nei primi 10 già si arrivano a 500 dollari 50, 70, 90 100, 110 se uno cerca un hotel a Torino o a Milano ovviamente proprio questo invece qui era incredibile che ce ne fosse 17, 15 dollari 28 dollari 20 dollari e poi forse si arrivava allo Sheraton che costa da 100 dollari a notte qualcosa di simile insomma pure che deve costare allo Sheraton quindi questo dicevo è un'idea insomma del fatto però restiamo umidi siamo sulla penthouse oltre bitcoin avete visto petrofanie di altre coin no devo dire shilcoin per ora 0, 0, 0 ma no diciamo quando parli con un locale non sa neanche cos'è bitcoin non pensiate che qui tutti sanno cosa sia bitcoin o che abbiano idea del fatto è una cosa che interessa a noi i locali non hanno devo dire il paradiso del massimalismo ma anche ieri sera tutti molto convinti tutti uguali erano in secolo certo no dovete immaginare il mondo cripto cioè se voi andate a Dubai ci sono questi trader della domenica che si inventano cioè c'è il mondo di cripto così è stata Miami c'è il mondo cripto lì è la tira della shitcoin qui di fare gli investimenti cripto ne frega un cazzo a nessuno quindi qui c'è un tema al limite di se ci sarà un buon numero di turisti che pagano in bitcoin accetterà al bitcoin per essere pagati se poi di bitcoin bici l'ha insegnato a risparmiare cominceranno quali che hanno imparato che hanno accettato la lezione a risparmiare il mondo cosiddetto cripto e qui viene raccontato a DeFi a uno che vende cocchi sulla spiaggia per fortuna questa spazzatura questo rumore di fondo non esiste si chiedono del covid i ragazzi con cui abbiamo parlato ieri potrebbero essere dei cittadini onorari della nostra chat siamo tutti molto priorati si è molto priorato abbiamo parlato molto di monasteri noi ci fanno una domanda interessante sul covid nazi covid esiste allora prima che noi fossimo qui storicamente serva la lettatura del peggiore nazione del centro america dal punto di vista delle restrizioni ha avuto tipo più coprifuochi degli altri prima degli altri eccetera eccetera poi ha rilassato come tanti altri e poi invece naib ha fatto un tweet dicendo che chiunque non si è vaccinato non potrà mai entrare qui che ha le ire di francis puyot che ha detto allora io non vengo più io l'ho recitato dicendo allora neanche io in realtà non è vero nel senso che naib ha fatto ha fatto lo show su questa cosa ma noi siamo entrati con PCR senza a me non hanno chiesto neanche PCR a te neanche PCR non so neanche cos'è la luna di notte io ce l'avevo ma non me l'hanno chiesto sì io avevo codice QR certificato di medicina che è assolutamente il pass non scherzo no no chiediamo perché se me c'è QR qui no 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 puoi tagliarli perché passare ah di paname per poi perché la cosa di paname no perché si è uscito io non ho messo no l'abbiamo fatto lo stesso no non devo dire però non paranoici anche lì separiamo qui mascherina zero non è solo la tua di palle il tito dell'hotel un po' più fighetto ci ha detto qui si tiene la mascherina sempre in spazi pubblici noi non la teniamo e non ci dico niente la povera servitù la povera servitù come in tanti posti purtroppo c'è proprio la divisione in caste col cliente che se ne sbatte nessuno dice niente e il povero lavoratore che invece sotto 40 gradi si deve tenere il pannolino però diciamo che non è molto peggio Dubai per esempio l'Italia non parliamone quindi Dubai maggio scorso inseguivano da solo sulla spiaggia mi hanno inseguito sulla spiaggia da solo per farmi mettere la mascherina ah no vabbè ma mettere la mascherina diciamo in questo momento ci sono due piani mettere la mascherina va bene non va bene quello che vuoi come ogni obbligo non va bene però se ti devono inseguire solo per metterti la mascherina se ti portano fuori dallo spiaggia no 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 solo i seguiti però qui neanche quello però che sesso ma Dubai quindi devi mettere la mascherina adesso a ottobre molto meglio ottobre all'interno degli hotel rompevano un po' le scarpe sì in aero e in aero sì in aero prima dalle compagnie aeree non credo di sì la compagnia aeree e poi con il fatto che hai la mascherina per gli occhi qua la mascherina per la bocca qui per la bocca qui per la bocca qui per la bocca qui sì respirare un po' ma io ho visto comunque con la felpa mi sono messo col cappuccio con la felpa e io ho da due anni uso la tecnica del mangiare in continuazione però non funziona io continuo a mangiare bevo questi ossetti così lentissimi però è un po' stressante devo dire si ingrassa anche viaggiare così va bene ricordati la piglia quella di benvenuto sì poi Riccardo tra l'altro per la vostra per la vostra podcast poi ne parleremo quando torniamo perché cercheremo di capire anche come potete fare per esempio con la sim card perché ne abbiamo dovuto pagare cash quindi tu dovrai probabilmente trovare il modo di pagare la sim card bitcoin secondo me ci sono modi ma magari possiamo prenderci questa mia sfida ma anche qui dovete decidere se loro vivono solo di bitcoin i ragazzi bitcoin in Italia podcast possono ritirare dollari per copiarsi in card o no sì probabilmente ma bisogna capire che regola che regola che regola tu devi qualunque posto che è una tm non devi fare quello che vuoi eccoci sì bisogna capire un po' secondo me ce l'ha fatte però ci sono un paio di cose che magari cercheremo di chiedere un po' di supporto locale no ma tra l'altro perché non deve utilizzare una sim card locale ci sono cose sim card internazionali che forse sì se venite con una sim card internazionale è un problema che vi ha risolto online e chiedono all'aeroporto come fai io direi se voi se vi riuscite ad arrivare al zonte non morite di fame ma dovete riuscire ad arrivare fin qui all'aeroporto del salvador non è un posto dove facilmente mangiate ma non è vero cento commerciale dell'aeroporto posti che il bar dovevano preso tutto preso il succo c'è scritto bitcoin si l'aeroporto accettano tutto bitcoin no e poi uno trova un tassista di qua che ti viene a prendere e lo paghi il bitcoin perché di qua sì qui è partito tutto e qui tutti sanno cosa sia bitcoin bisogna vedere tra le altre parti per esempio ci sono questi bei vulcani dove si fa questa escursione non solo quello che fa mind ma esistono anche di shitcoin si esatto si chiede si chiede si chiede guarda che c'è un mix e pd vanno prima una domanda cosa pensi di right no allora mettiamo un po' il punto degli altri giorni cosa riusciremo a fare però possiamo immaginare di domani poi c'è poi a diretta da san salvador ci sono anch'io perché non parlo domani quindi se volete facciamo una tutta io dopo domani mattina perché c'è la diretta vero? penso sia in stream non sono sicuro se potete seguirlo in stream ah la cosa figa sarebbe poter fare una specie di già passate è vero che mi ha spesso 20 minuti che non è che si faccia grandi già la fatta però sì però poi la gente giustamente vorrà ascoltare mi chiede me che faccio facciamo il doppio auto se poi non mettono noi se non è tipo il commento da resistere arrivati i quarti la prima volta quasi normale poi quel commento so sì possiamo cercare inventare questa cosa oppure mi mettete i suoni come bellissima come concetto dopo un'ora di serti no proprio ecco la promessa vorremmo fare qualche immagine almeno del senso e poi c'è quest'idea fantastica che abbiamo avuto che si potrebbe inventare qualcosa di come bitcoin embal sia il zoom perché no è una cosa questa è una cosa un po' vecchia che è stata la piccola in massimo che ce n'hanno tante tutto il mondo è stata rinnovata ieri notte di fatti molti nuovi tra virgolette gente che è entrata nel 2015 così che non conosceva il meme l'ambasciata bitcoin e che magari si riesce a ringaluzzire un pochettino quindi pensiamoci pensiamoci possiamo fare un presidio permanente vuole che vanno avanti e indietro dall'italia vediamo a stimolare che ora domani non si sa è il termore di più no perché poi avremo probabilmente dovremmo metterci dove una stanza vediamo come cerchiamo di farlo in mattina per noi così non è notte per voi quindi tendenzialmente tardi a mattinato primissimo pomeriggio per noi così per voi è quest'ora ora di cena non troppo tardi saremo costretti a non farvi vedere nulla sulla vita notturna perché troppo tardi da voi se no però se avete dei consigli da darci tipo chiamate di ospiti internazionali chiamate degli spacciatori delle cose così diteci in chat e noi vedremo di appuntarvi Naibu per esempio so che è libero per un'intervista Naibu farà una spesa di introduzione ma io ne ho andato le persone no si secondo me farà un abitato si comprerà credo anche io comprerà però poi per diminuire l'accorto della cittadinanza va bene caso che diciamo bene io vi chiederei di cambiare il Civo Wallet perché fa bene termina condivisione ok 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 chiedere ai spacciatori se accettano bitcoin non a questo gioco no questi spacciatori sono conosciuti per avere un carattere abbastanza abbastanza assertivo quindi magari guarda che il cliente ha sempre ragione in ogni ambito quindi questa cosa e per il loro cliente li paga miliardi per carichi secondo me non siamo clienti per le malattie quello è proprio un drag d'interno qui c'è quello di piccolo qui c'è qui c'è una grande c'è una grande doggio di ho diciamo grande istituzione organizzata non c'è retail qui quindi bisogna vedere potrebbe esserci se cosa nell'all'uomo dell'hotel potrebbe esserci la vaccinazione spacciatore anche perché c'è quella in Austria che offrono quella cosa che in cambio della vaccinazione e nell'hotel fanno la vaccinazione e mi faccio attento anche la seconda ma so anche se c'è la parte homo si esatto io rappresento la quota lgbt w va bene direi che ci siamo ci siamo rimandiamo alla prossima domande si arrivano ma al limite fatti offrire una colazione ma io ho provato oggi a offrire la compresa nella camera a Giacomo però prende solo caffè mattina non ho capito che mi ha fatto due uova mattiniero lui ha deciso per il multi come si chiama il fasting mi permette il fasting ecco queste cose hanno fatto te sì mi mando gli impar è un cica città sì sono un predico predico bene quantomeno poi quindi sì aggiorniamoci cerchiamo se è possibile di mandare il timer che avete visto che fa partire la diretta una mezz'ora prima così chiunque sta non so in taxi sta da qualche parte sta facendo la doccia può correre prepararsi per la diretta se avete delle idee il pomeriggio italiano perché noi non abbiamo dire quindi se volete qualunque idea mandate una del link siamo qua ora dovrò cercare di fare post produzione rapidamente così se qualcuno dei ospiti internazionali vogliono venire giusto dire un ciao a dire qualcosa in italiano vediamo ricchi ti stiamo rubando il lavoro praticamente improvvisati stiamo bruciando tutte le leclusive ma scusa ma se no qui mi hai lasciato secondo me può entrare anche qualche anno può farla lui può farla lui qui dentro una finestrella intervista è vero se volete ricchi fate se il programma è interessante fate voi un'intervista dall'italia e noi facciamo i vostri inviati qui a sabato anche se volete dire qualcosa potete dire tipo bravi potete fare complimenti a parte questa cosa la dobbiamo testare chiunque può entrare con video forse volete magari quindi ci sentiamo probabilmente domani se no comunque vi scriviamo scriviamo se non possiamo perché è per come esatto ciao ciao a tutti ciao a tutti